Ciao a tutti ragazzi, sono Salvatore Stamante ed eccomi qua ragazzi oggi con questo nuovo video Oggi sono qui che vi porto un gameplay straordinario, probabilmente come avrete detto già dal titolo E' una partita che sinceramente è stata fatta un bel po' di tempo fa Circa le prime settimane di Black Ops 3 quando ho miso per la prima volta i punti doppi Dove riesco a fare 11 livelli in una partita Più di 100 uccisioni, in questo caso 102 E poi anche più di 10.000 punti, quindi ragazzi davvero una bella bella partita Diciamo che le difficoltà sono state diverse ovviamente Dato che essendo a livello 1 come avrete visto già dai primi secondi del video Perché c'è la classifica e potete vedere che era a livello 1 Vabbè, le difficoltà più grandi ovviamente sono quelle che non potete crearvi una classe O meglio, a livello 1 le classi si possono creare Come vedete sto usando l'M8A1, l'M8A7 Perché? Perché in pratica come sapete ogni volta che fate il prestigio Le armi e gli accessori comunque rimangono gli stessi Quindi potete mettere, sì, degli accessori sull'M8 Però massimo 2, non potete mettere il terzo accessorio Perché per quello serve sbloccare una wildcard E voi ovviamente non avete nessun punto da utilizzare per sbloccare qualsiasi cosa Come i perk o serie di uccisioni eccetera Quindi ovviamente le serie di uccisioni come vedete sono V-Elstorm e Talon, quelle che avete all'inizio del gioco di ogni prestigio Stessa cosa con la macchina da guerra che è quella iniziale, quella standard E i perk erano, se non sbaglio, post bruciatore Prestigiatore E... Un altro che fa veramente schifo Sì, perché, vabbè, solitamente si usa, sapete, propulsione furtiva O maschera tattica Però qui era, se non sbaglio, gengo spericolato Che è veramente inutile, penso Almeno da quello che so Cioè Con un po' di tempo comunque Che ho provato quel perk Non mi sembra tanto forte Comunque, ripeto, queste qua sono state ovviamente le difficoltà più grandi Poi mi ero fatto solamente questa classe con l'M8 Ovviamente il mio obiettivo era quello di fare tanti livelli in una partita Giustamente E come vedete gli accessori che utilizzavo sull'M8 erano il mirinole E solamente i due accessori che in questo caso erano estrazione rapida e calcio regolabile Quindi i soliti che, diciamo, quelli standard di un'M8 Quelli che dovrebbero essere utilizzati la maggior parte delle volte Comunque sia Ovviamente la mappa è stata Nuketown Ma beh, perché quando ci sono stati punti doppi Il modo migliore per fare punti E giocare su Nuketown La modalità era uplink E anche qui Se avessi Fatto la tattica di giocare con la palla E quindi di uccidere nemici con la palla Perché questo qui era pre-patch Ovviamente, come vi ho detto, è stata registrata qualche mese fa Avrei fatto 200 kill 200 punti Ogni kill appunto fatta con la palla Avrei fatto un sacco di punti Ho visto Anche io personalmente ho fatto un sacco di partite Giocate così E ho raggiunto 25-30.000 punti Quindi Sicuramente avrei fatto qualcosa come 15 livelli Quindi Qualcosa di assurdo Peccato che Ripeto questa qua Qui non sapeva ancora di questo modo di giocare Con la palla Non sapeva ancora che Con la palla Si potessero fare 200 punti a kill E poi Che comunque Non è facile Adesso con la nuova patch Hanno Diciamo hanno depotenziato Hanno diminuito La mira assistita Di quando hai la palla in mano Per uccidere il nemico Prima pre-patch In pratica quando avevi la palla La mira se ne andava da sola Verso l'avversario Che trovavi davanti Basta che spingevi cerchio O quello che comunque utilizzate Per dare La coltellata E In pratica Vi prendeva il nemico E facevate 200 punti Quindi era molto facile Soprattutto poi su Nuketown Se vi mettevate dentro la casa Era fatta praticamente Vi facevate doppi e triple Perché Poi ci vogliono 10 colpi Per uccidere Quello con la palla Quindi Sicuramente Ci sarebbero fatti Un sacco di punti Però Comunque sia È stata una bella partita Gli ultimi secondi Sono stati quelli Perché Poi ovviamente Dopo Che ho visto Che ho fatto 11 livelli Ho visto che mi mancavano Davvero poche poche kill Per fare il 100 o più E ovviamente Poi quello là Era diventato Il mio obiettivo secondario E Sono stato molto fortunato Perché come vedete Gli ultimi 10 secondi Faccio una quadrupla Che poi Andrà anche il kill cam Che ovviamente Mi ha aiutato E mi ha consentito Di fare Di fare questo 100 o più Comunque ragazzi Il video è finito Qua si è giunto al termine Io spero ragazzi Che vi sia piaciuto Se lo è stato Lasciate tantissimi Mi piace Perché Nei prossimi giorni Arriveranno altri Bellissimi video Ve lo assicuro Quindi ragazzi Che dire Io Vi saluto Vi ringrazio E Ci si becca domani Con un prossimo video Bella raga Centro confermato Grazie a tutti Grazie a tutti